Anno Santo 2025, il messaggio del delegato diocesano Don Gian Mario in vista del pellegrinaggio della Diocesi di Novara a Roma dal lunedì 17 a giovedì 20 febbraio 2025. Pellegrinaggio per il quale sono aperte ancora le iscrizioni. Potete visitare per tutte le informazioni il sito www.diocesinovara.it slash giubileo. Anno Santo Giubileo 2025, c'è un tempo di speranza per te, c'è un tempo di grazia per tutti noi. La nostra Diocesi di Novara con tutte le comunità parrocchiali e anche per te che mi stai ascoltando ha un invito a partecipare al pellegrinaggio diocesano dal 17 al 20 febbraio 2025 a Roma con il Vescovo e tutta la Diocesi. Varcheremo insieme la Porta Santa della Basilica di San Pietro, andremo all'udienza con Papa Francesco, parteciperemo con gioia ai momenti della vita della Chiesa nel mondo di oggi, raccogliendoci in preghiera, in riflessione nella Basilica di San Giovanni in Laterano, la Chiesa Madre, andando pellegrini nelle catacombe dei martiri, salutando e ringraziando la Vergine Maria nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Saranno giorni intensi di preghiera, di amicizia, di fraternità, di vita ecclesiale, ma soprattutto è un tempo di grazia per tutti i cercatori di Dio che nella nostra Diocesi guardano, sentono e vedono che il mondo ha bisogno di speranza. Il Papa ci ha indicato in Gesù la speranza di ogni uomo. Non mancare. Ciao.